Sono otto, oggi le città con bollino rosso per le ondate di calore alle due laziali Rome e Rieti si aggiungono Bolzano, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia e Torino. E quanto emerge dal consueto bollettino del Ministero della Salute sulle ondate di calore per mercoledì 12, la massima allerta riguarderà invece sette città oltre a Rome e Rieti, le uniche con il bollino rosso per tre giorni consecutivi, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia e Bologna. Le temperature saliranno sopra le medie del periodo anche di 10 gradi in Sardegna, ma non si tratterà di valori eccezionali ma di routine per la stagione estiva.